Assemblea generale straordinaria per i soci di Confagricoltura Alessandria, nell'occasione gli associati hanno potuto ritrovarsi per la prima volta in presenza dopo mesi di riunioni online, approfittando degli ampi spazi della tenuta alla fiscala di Spinetta Marengo. L'appuntamento annuale dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, quest'anno c'è anche un'assemblea straordinaria per modificare lo statuto, approveremo anche le modifiche al codice etico di Confagricoltura. Sono ovviamente delle necessità, se volete, un po' burocratiche, però anche importanti perché la nostra è sempre stata un'associazione molto trasparente e quindi i nostri soci hanno sempre la contezza che l'associazione è sana e le cose vanno bene. Mi fa molto piacere di cominciare a rivedere fisicamente tanti agricoltori, tanti amici, anche perché le cose a discutere sono tante ed è importante poterlo fare di nuovo finalmente in presenza. Fra i temi della giornata dell'Assemblea, la modifica dello statuto e l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020. Abbiamo delle norme nuove dello statuto, Confagricoltura Alessandria si uniforma Confagricoltura nazionale, quindi fondamentalmente la lunghezza dei mandati per il Presidente e i Vicepresidenti diventa di 4 anni e non più di 3, con il limite di due mandati. Altro tema caldo della giornata, le trattative attualmente in corso a Bruxelles per l'approvazione della nuova politica agricola comune, che, visti i ritardi accorsi nella redazione della versione 2021-2027, vede prolungata fino al 31 dicembre quella ormai scaduta nel 2020. Fondamentalmente però sarà anche l'occasione per fare un aggiornamento sulle trattative per la nuova PAC, che proprio in questi giorni, questa mattina per l'esattezza è una delle riunioni decisive, a Bruxelles stanno trattando la nuova PAC, che porterà sicuramente dei grandi cambiamenti per l'agricoltura italiana. Vedremo se è in meglio o in peggio quando saranno definite tutti i vari regolamenti.